e continuano i lavori nel nostro forum di oggi eccoci qui con un altro intervento che davvero ci porta ancora più nella pratica di due aspetti che analizzeremo con l'ospite che tra poco vi presenterò partiremo dal machine learning e parleremo di intelligenza artificiale per capire come questi aspetti possono andare direttamente inseriti all'interno di discorsi aziendali il nostro titolo infatti è machine learning e intelligenza artificiale in azienda metodologie organizzazione tecnologie tanta concretezza quindi tante parole ma alla fine dovremmo anche scoprire come si va poi nella praticità portando esempi veramente concreti come recita il nostro titolo bisogna dire una cosa fondamentale come premessa prima appunto di cominciare questo dialogo con il mio ospite negli ultimi anni il machine learning ha dimostrato davvero tantissime potenzialità in numerosi campi applicativi oggi in azienda appunto visto che parleremo di questo sono attivi numerosi progetti innovativi basati proprio sul machine learning che danno ampio spazio per progetti che ovviamente ci portano proprio nel discorso delle nuove tecnologie e dell'innovazione in quanto tale parole che abbiamo utilizzato tantissimo soprattutto nell'ultimo periodo dobbiamo capire come questi progetti possano portare dei vantaggi di fatto lo fanno ma insomma cercheremo di spiegarvelo e un dobbiamo sfatare anche un po un mito un falso mito che sta alla base del machine learning il machine learning non può prescindere da due fattori come spesso erroneamente si pensa ossia le persone e il business anzi sono tutti aspetti dello stesso discorso e allora questo intervento che vi proponiamo oggi nel nostro forum presenta una metodologia che colloca la conoscenza delle persone proprio al centro dei processi di apprendimento automatico e capace di integrare gli algoritmi machine learning all'interno dei processi core del business questo è un po diciamo come riassunto il punto da cui vorrei partire vorrei partire con cristiano boscato che saluto e che è collegato con noi direttore didattico di bologna business school e evp di ingegna cristiano buongiorno benvenuto buongiorno a tutti buongiorno allora ci sarebbero tante cose da dire ma cercheremo di farlo perché dovremmo insomma analizzare un po che punto siamo anche rispetto a questi argomenti peraltro lei insegna proprio giusto machine learning e intelligenza artificiale esatto alla bologna business school insegno la materia quindi legata più al business più che la parte tecnologica perfetto sa perché glielo ho chiesto conferma perché è importante anche spiegare questi temi in modo molto semplice quindi visto che lei li insegna insomma a chi proviamo esatto ci proviamo vedrà che ce la faremo allora partiamo proprio dalle applicazioni del machine learning applicate appunto applicazioni relative al business come lei diceva che anche l'ambito del suo insegnamento come qualcosa di assolutamente innovativo quasi mi verrebbe dire disruptive questo può creare sicuramente delle confusione sui reali vantaggi che il machine learning può portare alle aziende qual è il modo migliore per approcciarsi a questo discorso visto che stavamo dicendo insomma la comunicazione deve essere quanto più semplice quindi per integrare il metodo che serve per integrare in modo efficace il machine learning a tutti quelli che sono i processi di business partiamo da qui beh direi che la prima cosa a cui dobbiamo pensare è avere un approccio culturale e di consapevolezza il tema all'interno delle aziende prima di qualsiasi ragionamento tecnologico sui dati e di business questo perché ci troviamo di fronte magari ormai sia qualche anno che si parla di machine learning artificiale troviamo di fronte ad aziende che non hanno ancora una cultura che permette all'azienda solo poche persone sanno come funzionano questi progetti hanno poca consapevolezza e quindi rischiamo di misunderstanding rischiamo che il potere disruptive che dicevi poco fa del machine learning venga visto come magia cosa che non è è molto chiaro quello che può fare il machine learning si tratta di poter fare dei task precisi si chiama nerve AI quindi la possibilità di fare qualcosa di un task molto preciso e definito all'interno della propria azienda e di solito questi task una volta che vengono realizzati portano con sé cambiamenti sulle modalità operative organizzative dell'azienda quindi è importante fare un approccio culturale per spiegare cos'è come funziona e che tipi di cambiamento può portare oltre ovviamente a come puoi calare a terra dei progetti di machine learning certo certo ecco che quindi dobbiamo come dire portare consapevolezza e per questo negli anni abbiamo sviluppato una metodologia che ormai è consolidata abbiamo portato in tantissime aziende ed è una metodologia che poi è parte degli insegnamenti che porto alla bologna business school e non solo e che parte proprio per cercare di essere semplici su due tipologie di workshop iniziali che possono fare la differenza il primo workshop l'ho chiamato discovery machine learning workshop ed è un workshop dove si unisce una parte didattica sul tema quindi cos'è il machine learning come funziona ok senza essere un data scientist ovviamente legata più alla pratica il business a un tema di ricerca delle aree di business all'interno di un'azienda nelle quali il machine learning può fare la differenza machine learning non è come dire ce l'ha ordinato il medico lo dobbiamo usare quando può fare la differenza questo workshop mira proprio a dare consapevolezza e a cercare all'interno dell'azienda aree nelle quali questa consapevolezza può portare a dei vantaggi il secondo workshop si chiama single process invece quando abbiamo già un'idea molto chiara di quello che vogliamo fare e allora si vanno analizzare due aspetti il primo i dati senza dati non possiamo fare machine learning quindi un assessment sui dati il secondo di nuovo un assessment sul business ci chiediamo veramente se si può o meno se ha senso o meno scusate lavorare su quel progetto se i kpi sono positivi e se la macchina organizzativa azienda può supportare e sopportare un progetto di questo tipo fatto queste attività poi possiamo passare al progetto vero e proprio ma arriva dopo ok arriva dopo queste sono tutte le premesse però indispensabili insomma mi sembra di capire come ha specificato lei la mia seconda domanda si riferisce all'approccio che voi avete che pone le persone al centro nella premessa proprio detto che bisogna sfatare un po un mito secondo cui il machine learning o meglio quando si parla di machine learning si ritengono secondari aspetti come le persone il business rispetto a quelle che sono le come dire gli aspetti più tecnologici invece non è così appunto credo che lo dimostri il fatto che il vostro approccio pone le persone al centro e però le chiedo come lo si mette a terra veramente come può portare una reale integrazione degli algoritmi di machine learning nel business e nel lavoro assolutamente diciamo che mettere le persone al centro non è parte nostra una moda la moda del momento diciamo una cosa che ci rende più simpatici di altri è un'esigenza che è nata dopo tanti anni di lavoro nei quali anche noi all'inizio abbiamo sbagliato mettendo la tecnologia davanti e poi rendendoci conto che in realtà i successi dei progetti erano quando mettevamo le persone al centro cosa significa mettere le persone al centro significa intanto togliere dalle aziende quella dicotomia finta che c'è tra automazione e uomo come se fossero due cose diverse alternative questo è il punto di partenza qualcosa significa allora bisogna intanto rendersi conto di cosa significa machine learning e intelligenza artificiale soprattutto che far fare una macchina quello che fa l'uomo cioè permettere una macchina di imitare il comportamento dell'uomo quindi se io devo fare il training di una macchina ho bisogno dell'uomo è nei fatti ok perché di solito voglio fare un progetto di questo tipo lo posso fare per mettetemi più soldi e quindi un approccio verso il cliente soprattutto per risparmiare e quindi un approccio verso le operation oppure per creare nuovi servizi queste sono le tre motivazioni per cui mi muovo su questo tipo di progetti e il nuovo servizio ha sia la parte cliente che la parte operation ecco mettere l'uomo al centro significa prima di tutto andare a chiedere alle persone che si occupano di lavorare con i clienti quindi il famoso ultimo miglio ok che possono essere le persone il reparto sales di un'azienda piuttosto che il reparto degli shop assistant per quanto riguarda le operation possono essere le persone che lavorano in plant ecco andare a tirare fuori la loro conoscenza e la loro capacità di conoscere i problemi relativi al task che stiamo andando a cercare di far imitare a una macchina quindi prima di tutto dobbiamo mettere al centro una strategia ultimo miglio queste persone dobbiamo definirle come SME subject matter expert e sono le persone chiave che ci aiutano a far capire alla macchina come dobbiamo trainarla questo è fondamentale insieme ovviamente ai dati senza i dati non facciamo niente ma lo do per scontato quindi primo approccio ultimo miglio fondamentale senza gli esperti non andiamo a nessuna parte inutile che io faccia un progetto per come ci è capitato stimare un danno a un'auto senza chiede da una fotografia senza chiedere a un perito assicurativo come fa è impossibile ok secondo approccio noi parliamo di human in the loop per gli addetti ai lavori non sarà una novità ok e io lo definisco in due maniere quindi l'uomo nel loop nel cerchio nel processo di lavoro il primo dobbiamo definire il valore di il valore di quello che stiamo facendo il valore del successo io lo chiamo nel senso il machine learning si esprime in numeri si esprime in accuratezza precisione e recall e io posso avere dei progetti che possono fare di gran gran vantaggio il mio business che hanno un 70 per mentre altri con il 99,9 per cento non sono ancora a livello sufficiente se devo fare la macchina auto che si guida da sola il 99 per cento di accuratezza non è una misura sufficiente per poterla portare sul mercato un 70 per cento se io vi dicessi con 70 per cento io vi stimo il prossimo il vostro budget del prossimo anno probabilmente mi assumereste subito quindi più ma in the loop sono le persone che decidono il valore del successo e la seconda e cosa definitiva è che spesso le aziende di nuovo parsono dalla dicotomia automazione versus uomo quando in realtà la maggior parte dei progetti machine learning si fanno nell'unione tra uomo e macchina uomo più macchina quindi è fondamentale partire da subito avendo in mente quest'idea io ho un algoritmo che mi aiuta a automatizzare il 60 70 80 per cento del mio lavoro l'altro 20 per cento come lo facciamo come si integrano le attività dell'uomo con quelle della macchina questo è fondamentale se noi partiamo dall'inizio del progetto senza vedere la direzione ma possiamo avere delle difficoltà in corso d'opera e quindi non immaginiamo finisco non immaginiamo una macchina che ci sostituisca sostituiscono l'uomo ma immaginiamo un uomo con i superpoteri invece non deve essere così assolutamente se già si sbaglia l'approccio mentale appunto esatto è quello che diceva lei poco fa a questo punto io sposterei il focus nel senso passiamo dalle tecnologie dalla tecnologia alle persone perché è opportuno sapere quali sono i criteri di successo proprio per i progetti di machine learning in azienda ossia quali quali elementi vanno considerati quali kpi devono essere considerati messi al centro guarda di base è una cosa su cui mi sono interrogato tanto in questi anni i kpi sono quelli di buon senso tipici di qualsiasi progetto di cambiamento che uno dovrebbe fare in un'azienda a cui aggiungere dei kpi che sono specifici per i progetti di machine learning perché dico specifici perché per esempio rendiamoci conto che un progetto di machine learning tipicamente è un progetto vivo nel senso che essendo un algoritmo alimentato dai dati se questi dati cambiano dovrà cambiare anche il mio algoritmo non è un progetto di sviluppo software che una volta che l'ho fatto lo tengo lì e lo mantengo e basta ha bisogno di muoversi quindi dobbiamo un po cambiare l'ottica di ragionamento e quindi sono abbastanza semplici quindi sono di buon senso però partono da un ragionamento come dicevo prima end to end dove parto dove voglio arrivare nell'uomo più macchina e allora lì dentro posso farmi una serie di domande ti dico le principali la prima è ovviamente banale che problema di business risolve questo 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 progetto e quali benefici porta alla soluzione prima domanda che ci dobbiamo fare è sicuro che a volte la risposta è boh non lo so però vediamo non va bene e poi si passa domande più specifica del mondo machine learning tipo come valutare il successo della soluzione cosa significa come valutare successo quello che dicevo prima per esempio sulla curatezza piuttosto che sulla recall o sulla precision quando è che dico che il mio progetto ha successo al 70 all'80 per cento con una recall del 90 cambierà in base al progetto ma se non me lo dico prima lavoro per niente poi mi devo fare delle domande rispetto a le cose tipiche del machine learning tipo il falso positivo il falso negativo come mi comporto quando c'è un falso positivo e chi chi se ne occupa perché capiterà non ci sono algoritmi al cento per cento perfetti e poi domande su cui spesso le persone cadono perché si innamorano delle proprie idee come valuteresti l'impatto della tua soluzione alto medio basso ci capita a volte di lavorare non me ne voglia farò un esempio sull'hr ma non me ne voglia per far capire il concetto se io ho un'azienda che si occupa di consumer goods che ne so fa prodotti da forno il progetto di un hr che mi chiede un algoritmo per migliorare la selezione del curriculum è importante ma il valore l'impatto della sua soluzione all'interno del business complessivo di quell'azienda è basso e quindi consiglio alle aziende di partire dal loro core business di concentrarsi lì ultima domanda che quella chiave è come si può risolvere questo problema questo quindi ogni azienda senza il machine learning la risposta nella domanda appunto appunto stavo dicendo è già contenuta nella domanda la risposta esatto esatto questi sono diciamo i kpi che da queste domande rispondono i kpi che devono essere considerate assolutamente sì beh a questo punto prima di chiudere questo spazio a questo momento io lo dicevamo in apertura no ti chiederei di raccontarci alcune storie di successo dove effettivamente diciamo che hanno preso forma dopo essere state presentate quindi per far capire anche dove la soluzione ultima c'è la praticità c'è stata no e lo recita anche il titolo come dicevamo all'inizio a me piace dividere i progetti che abbiamo fatto per me sono sono parecchi tra progetti che hanno a che fare con i dati strutturati e con i dati non strutturati i dati strutturati sono i dati numerici le analitiche i dati da database chiamiamolo così non strutturati sono i testi tutto ciò che riguarda il linguaggio e tutto ciò che riguarda il mondo delle immagini dei video magari racconto un caso per uno per dare un'idea di fondo allora partiamo dal linguaggio abbiamo fatto stiamo portando avanti un progetto molto importante con Saipem relativo alla loro documentazione tecnica Saipem ovviamente un'azienda enorme molto strutturata che ha milioni di documenti tecnici multilingua per la parte soprattutto di manutenzione delle piattaforme petrolifere degli oleodotti eccetera dei gasodotti e avevano il problema di trovare la giusta documentazione nel momento in cui doveva fare un intervento abbiamo inserito quindi una sorta di motore di ricerca cognitivo quindi che supera l'approccio semantico il quale risponde a linguaggio naturale quindi alla domanda come posso fare questa cosa il sistema entra nei questi milioni di documenti e ne estrae il pezzettino con la risposta un po quello che accade a casa nostra con il amazon eco il google home con gli assistenti virtuali quindi stiamo passando da un motore di ricerca cognitivo un assistente virtuale e questo porta in proposito di kpi un vantaggio enorme perché passiamo dal una consultazione media di circa mezz'ora di un documento e stiamo parlando di migliaia di persone che si occupano di questa di questa documentazione a un utilizzo di tre minuti quindi un risparmio enorme per per l'azienda secondo progetto di cui magari mi fa piacere parlare è quello per cui quest'anno nel 2020 scusate abbiamo vinto il digital award come miglior progetto di machine learning più innovativo ed è un progetto dati fatto con era relativo alla clorazione dell'acqua in breve era a migliaia di impianti per la distribuzione dell'acqua che va parte la monte e scende a valle dentro nelle nostre case corrubinetto ecco in questo percorso ci sono migliaia di sensori che ne misurano la solubilità era aveva un problema legato ai falsi i falsi allarmi spesso volentieri le squadre per fortuna sul territorio andavano a controllare perché questi questi sensori davano dei falsi allarmi legati alla presenza di cloro in modalità eccessiva bene con un sistema di machine learning abbiamo non solo diminuito dell 85 per cento i falsi allarmi ma abbiamo anche potuto anticipare di una finestra di circa 20 minuti i veri allarmi e la cosa interessante di questo progetto è che abbiamo utilizzato delle tecniche miste con degli algoritmi convoluzionali che sono tipici del mondo del dell'image recognition noi li abbiamo utilizzati nella parte dati con dei risultati importanti e notevoli quindi questo per quanto riguarda la parte dati terzo progetto sì ma è un progetto che ha un po di tempo ma mi piace ricordare è quello di enel per la manutenzione delle linee elettriche sostanzialmente è un progetto che riguarda le immagini perché enel fa volare degli elicotteri che fanno le foto nella loro linea elettrica tenete presente che sono in italia sono 200 mila chilometri di rete elettrica e scatta più di centomila foto al giorno e noi siamo abbiamo insegnato delle reti neurali lavorando insieme alle persone di enel che si occupano della manutenzione ecco l'importanza degli smè abbiamo realizzato degli algoritmi che sono in grado di vedere un danno sulla linea elettrica e quindi immaginate cosa vuol dire a occhio umano analizzare centomila foto al giorno cosa impossibile e immaginate invece la possibilità di poterlo far fare una macchina ecco risultati la media di questi algoritmi sono tre di sei algoritmi è dell'85 per cento non è eccezionale però è abbondantemente sufficiente certo e chiudo con un progetto più piccolo poi dobbiamo chiudere sì prego perfetto perché voglio chiudere con quest'ultimo non solo perché abbiamo vinto lo small innovation questo progetto ma anche perché non solo le grandi aziende ma anche le medie e le piccole aziende possono approcciarsi al mondo del machine learning quindi con credito cooperativo romagnolo abbiamo avuto appunto lo small con un chatbot innovativo un chatbot che è presente nel loro sito per raccogliere lì di tipo commerciale per dare informazioni e supporto ai clienti ma la parte interessante oltre allo sviluppo del chatbot con un particolare tone of voice è il fatto che abbiamo costruito anche il percorso di back end in maniera tale da sollevare eventuali necessità e quindi l'algoritmo è in grado anche di capire quando è il caso di fare intervenire un umano ecco quella connessione connessione di nuovo tra macchina esatto esatto che devono assolutamente andare di anche perché uno senza l'altro non va da nessuna parte insomma giusto per per ricordarlo alla fine però continua a essere un po un falso mito e c'è un po paura no della sostituzione della parte umana e no ma infatti anche perché per avviare la tecnologia servono gli umani quindi probabilmente serviranno altre competenze ma questo è un altro è un altro è un altro ragionamento ci sarà modo di parlarne grazie cristiano boscato direttore didattico di bologna business school e evp di ingegna per averci raccontato non solo la parte teorica ma anche e soprattutto quella pratica grazie mille per essere stato con noi grazie grazie e noi naturalmente continuiamo con i nostri lavori del forum